Era l'estate dell'81, un pomeriggio leggermente ventoso con il cielo trasparente e il mare color prugna. Avevo da poco compiuto 16 anni e stavo per rischiare la vita. Di lì a un paio di mesi mi sarei schiantato in Vespa, rompendomi tre costole e trasformando la spalla sinistra in un arabesco di escoriazioni. Ma avrei rischiato meno, oggettivamente meno, di quel pomeriggio alla Usonia. Eravamo in tre, neanche poi tanto amici. Sulle gradinate ci osservava ostentando noi a un gruppo di ragazzine. Non importa quante fossero e quanto fossero carine, non importa se potessero essere realisticamente alla nostra portata. Erano femmine di uomo, una nebulosa prustiana di Jean-Phil-Anfleur e già questo alterava del tutto i nostri comportamenti. Dopo i primi tuffi di testa dai 5 metri, il più bravo dei miei due compari propose di salire alla piattaforma da 10 e l'altro e io fu un po' costretti ad accettare. Ecco tre pavoni che fanno la ruota a 10 metri da livello del mare. Le ragazze, da sotto, si erano messe la mano sulla fronte a modo di visiera e ora ci guardavano più seriamente. Il tonfo che fa un corpo cadendo in mare da quell'altezza si guadagna l'attenzione a prescindere dalla qualità delle sue entrate in acqua. L'anno prima mi ero già tuffato un paio di volte dalla sua ma mai di testa. L'idea di scendere coi piedi verso l'alto, contro quella superficie così scura e lontana, mi dava il volto a stomaco. Il più bravo aveva eseguito un discreto carpiato e stava scrollando i capelli sulle ragazze che strillavano nel loro solito modo isterico. Io e l'altro inghiottivamo saliva in silenzio sul bordo del precipizio, cercando di non abbassare lo sguardo su quei puntini microscopici seduti in salvo laggiù, sull'esdraio e le gradinate. A quel punto mi venne l'idea della disperazione. Perché non ci buttiamo dal solarium? gli dissi. Intanto il più bravo era risalito. Beh allora che aspettate? disse il raggiante. Vuole buttarsi dal solarium? disse l'altro, che vedeva complicarsi la situazione di minuto in minuto. E beh, che ci vuole? disse il più bravo. Ma non si può, è vietato, disse l'altro, che laggiù sul livello del mare era solito impennare la vespa tra le macchine in parcheggio e fare una notevole quantità di altre cose vietate. Là ci ha fatto un sacco di gente, basta sbrigarsi e non ci dice niente nessuno di se è più bravo, guardandomi. Il solarium dava sul mare aperto, era protetto da una ringhiera verde che noi avremmo dovuto scavalcare per poi gettarci nel vuoto da un'altezza di almeno 12 metri. Io speravo che il mio blef servisse a mandare a monte la sfida, a farci uscire tutti a testa alta, invece stavamo già salendo le scale dell'alterazione più alto del bagno, seguiti dalle ragazze, due almeno parecchio carine, vedevo ora, che il più bravo era riuscito a invitare che ridevano nei loro bicchini pieni di fiori, già maledettamente adulti e consapevoli del loro potere. Spiegamento, sentì l'entrata in acqua come fosse la mia, talmente rumorosa da spingermi a un passo dal vomito. Le ragazze fecero i loro urletti quando la testa del più bravo tornò a sbocciare in mezzo alla schiuma. L'altro mi guardò, era un po' più alto e soprattutto più bello di me. Senza pensarci un attimo approfittò della mia esitazione, scavalcò e si tuffò, quasi in un unico movimento. L'attimo prima era tra me e le ragazze a fissare in credulo la schiuma del più bravo, l'attimo dopo era in mezzo a quella stessa schiuma, di nuovo in credulo, ma per un'altra ragione stavolta. Salutato dalle fanciulle brustiane con quei mezzi irresistibili che i maschi vedono riprodotti nelle mani delle donne nei secoli dei secoli. A quel punto potevo ancora ritirarmi, le ragazze manco le conoscevo. I ragazzi erano due compari di passaggio, amici stagionali. Avrei perso la faccia con persone destinate a scomparire nel lasso di qualche pomeriggio. Avrei perso la faccia ammettendo di avere troppa paura, di fatto senza perderla, perché riconoscere i limiti del proprio coraggio non scalfisce la tua dignità, anzi. Ma quella era una missione, una ammissione da grande e io all'epoca ero ancora lontano anni luce dall'essere. Portai con enorme fatica la prima gamba al di là dell'ostacolo. Mentre mi trovavo a cavallo della ringhiera pensai alla sventura di perdere l'equilibrio precipitando come un suicida e ovviamente per un attimo persi l'equilibrio. «Attento!» disse la ragazza più vicina a me. Aveva gli incisivi troppo grandi, due o tre brufoli spremuti di fresco. Mi sorrise dolcemente. Io trovai la forza di scendere da cavallo, girarmi di centottanta gradi e mostrare il petto alla lucida lavagna color prugna in mezzo alla quale si scorgevano appena i ceffi rosa dei miei due sfidanti. Da lì tornare indietro è impossibile. La ringhiera è una barriera psicologica, è come una porta che si chiude alle tue spalle. Non puoi più uscire da quella parte. Se fai l'errore di scavalcarla ti viene concesso solo un altro errore. Buttarti. Cioè, intendiamoci, basterebbe dire «No, non ce la faccio!» Teoricamente è ancora una via di fuga, ma in realtà solo pochissimi sono così bravi da praticarla. Quindi, tocca proprio al secondo e ultimo errore. Stetti aggrappato al ferro dietro di me per un tempo lunghissimo, senza che né i ragazzi laggiù né le ragazze accanto a me osassero dirmi una parola. Poi, anche quel tempo finì e le mie povere mani, contro la loro volontà, abbandonarono la presa. Mi buttai cercando la linea più breve verso l'acqua. Sapevo tuffarmi. Sapevo che per tuffarsi da così in alto la parabola non doveva essere ampia e che scendere in picchiata in quel modo era la cosa più sbagliata che potessi fare. Ma sapere significa poco, pochissimo, quando hai paura. E io volevo che la paura finisse il prima possibile. Impiegai un'eternità per fare quei dodici metri a testa in giù. Aspettavo l'impatto duro con la superficie dell'acqua come una liberazione. Il colpo alla tempia dopo la tortura. Intanto il mio corpo subiva la rotazione inerziale che ogni tuffo malfatto produce. E le mie gambe si piegavano sempre più all'indietro e le punte dei miei piedi quasi toccavano la mia nuca e le mie vertebre disegnavano un arco estremo, finale. E io sentivo che quella era tutta roba mia che scendeva insieme a me senza che io potessi più prendermene cura. Senza che potessi evitarle di rompersi dolorosamente e in modo forse irreparabile al contatto con l'acqua. Entrai di faccia, la testa fuori dalle braccia, le cosce e la schiena schiantate di piatto con la detonazione secca di uno sparo. Un rumore forte anche sotto la superficie del mare. Non ero morto. I ragazzi pensavano di sì, invece ero ancora vivo. Stavo risalendo verso la luce con un terribile dolore alla spina dorsale ben maggiore dello schiaffo sulle cosce, ma a portarmi su erano le mie gambe e io ero con loro. Cazzo, disse il più bravo quando mi vide comparire sulle scalette. Porca puttana, disse l'altro. Erano così spaventati che non riuscirono neanche a prendermi in giro. La ragazza con i brufoli scese a vedere se mi serviva qualcosa. Le altre si tolsero semplicemente dalla balaustra e tornarono ai loro asciugamani. È sempre istruttivo osservare come un evento gigantesco determinante nel flusso della tua vita possa spesso risultare del tutto insignificante nella vita degli altri. Da fuori dovevano aver visto un ragazzino riccioluto tuffarsi in modo ridicolo dalla terrazza del solario. un piccolo diversivo per qualche risalta, niente più. Anche i miei da fuori notarono solo che camminavo come se avessi ingoiato una scopa e che per qualche giorno trascorsi i pomeriggi disteso a letto. Da fuori un ortopedico avrebbe parlato di colpo di frusta. È così che funziona la vita, vista da fuori. Io però quel giorno all'Ausonia mi ero visto da dentro. Grazie.